Infrastrutture stradali, turismo, scuola e mobilità sostenibile sono i quattro ambiti relativi ai progetti che la provincia di Pescara intende realizzare con i fondi del recovery plan. Frutto di un grande lavoro di squadra tra regione, provincia e comuni, i progetti sono stati realizzati tenendo conto delle esigenze dell'intero territorio in una sintesi di opere che valorizzeranno non i singoli comuni ma l'intera provincia, come ha spiegato il presidente Antonio Zaffiri. Un occhio particolare per le strade perché nell'area Vestina mancano proprio le infrastrutture. Il casello autostradale di Cappelle per l'area Vestina è da tanti anni che si parla, è il centro dello sviluppo di quell'area perché a differenza dell'altra area, la Val Pescara che è infrastrutturata con l'autostrada Roma-Pescara con l'asset ferroviario che c'è su quella vallata, la Valle Vestina non ce l'ha. E quindi oggi vogliamo potenziare per dare impulso e nuova linfa a quell'area che soffre da parecchi anni. Però non abbiamo trascurato l'ambiente, non abbiamo trascurato la mobilità sostenibile e non abbiamo nemmeno trascurato il turismo. Benché noi il turismo, questa funzione non ce l'abbiamo più, però la provincia di Pescara ha una grande fortuna di avere il mare e la montagna e quindi abbiamo pensato di creare questo comprensorio del Voltigno perché è un'area importante della nostra provincia, ma soprattutto un'intesa con la provincia dell'Aquila dove tre comuni aquilani, Ofena, Villa Santa Lucia, Castel del Monte, Sul Versante Pescarese, Carpineto della Nora, Civitella Casanova e Villa Celiera, insieme devono creare questo comprensorio per valorizzare quella zona perché è importante sia per il turismo invernale e anche quello estivo e soprattutto per il mondo ambientale. Oltre alle strade e alla realizzazione di un comprensorio scistico del Voltigno si pensa anche alla mobilità sostenibile con due progetti di ciclovie che dal capoluogo adriatico porteranno alle sorgenti del Pescara e alla riserva del Lago di Penne, ma c'è spazio anche per le scuole con la realizzazione di un polo tecnologico nella zona degli istituti Volta e Bellisario e al potenziamento dell'acerbo con indirizzi specifici su ambiente e territorio in linea con il programma della transizione ecologica. Noi oggi abbiamo ragionato, come dicevo prima, sinergicamente insieme ai consiglieri, a tutti, indipendentemente da quello che abbiamo come disponibilità economica, perché abbiamo visto le cose necessarie del territorio della provincia di Pescara e poi si deciderà, in base a quello che ci sarà, si daranno delle priorità.